È di natura dolosa l'incendio che ha distrutto all'interno di una villetta, abitata nel periodo estivo e di proprietà di un insegnante di Racalmuto. Qualcuno sarebbe riuscito ad entrare all'interno dell'abitazione e una volta dentro avrebbe appiccato il fuoco ad arrede su pellettili. Lo spiacevole episodio si è verificato la scorsa notte, nella periferia di Racalmuto in provincia di Agrigento. Sarebbero stati alcuni passanti a segnalare le fiamme al 112. Sul posto sono tempestivamente arrivati i vigili del fuoco di Canicattì e i carabinieri della stazione cittadina, che hanno subito avviato le indagini. La procura della Repubblica di Agrigento, intanto, ha aperto un fascicolo di inchiesta a carico di ignoti. Il fuoco ha distrutto alcuni arredi e mobili, riempito di fuligine e annerito gli ambienti della residenza.